Fine estate 2024, il Comune di Muggia farà di tutto perché in quel periodo abbiano inizio i lavori di ampliamento della Galleria Nazario Sauro, costo previsto 18 milioni e mezzo di euro, 13 dei quali garantiti dalla Regione. Stamani in Municipio il Sindaco Polidori e l'Assessore regionale alle politiche locali Pierpaolo Roberti hanno presentato lo studio di fattibilità del progetto elaborato dalla Tunnel Consul. Un intervento alla fine del quale la Galleria consterà di due corsie larghe 3 metri e mezzo ciascuna che in breve tratto si restringeranno a 3 metri e 250 centimetri, cui si andranno ad aggiungere 50 centimetri su ogni lato non destinati ai pedoni o alle biciclette. Il Comune aggiornerà e si confronterà periodicamente con la popolazione, uno stabile verrà abbattuto, non però Palazzo Zaccaria. 13 mesi di lavoro complessivi suddivisi in tre fasi. La più complessa durerà 7 mesi e comporterà anche la chiusura di salita delle mura necessaria per i sottoservizi, ma anche per consolidare la stessa strada. I lavori sono stati concordati assieme a Trieste Trasporti per consentire il trasporto pubblico anche nelle fasi di chiusura della Galleria, oltre che per immaginarlo ad intervento concluso. Fra l'altro nella zona mare sarà realizzata una rotatoria per consentire una migliore uscita dal tunnel. Durante i lavori saranno messe in atto soluzioni di viabilità alternative, il mandracchio in senso unico per l'uscita verso Trieste ad esempio, laddove l'ingresso a Muggia comporterà un senso unico su via Pianezzi e via Picciolone. Una volta chiuso l'intervento anche la viabilità interna del borgo Istro-Veneto sarà modificata, ad esempio per quanto concerne via Roma e via D'Annunzio, perché, Polidori lo ha ripetuto spesso, l'ampliamento della Galleria è il primo passo per guardare alla Muggia del futuro. Avrà dei molteplici vantaggi, quello di migliorare enormemente la viabilità, di migliorare il flusso e quindi la velocità, il flusso del traffico da e per Muggia, di liberare una parte del centro storico, che è il mandracchio, dall'attraversamento delle automobili, quindi si farà tutta zona pedonale e anche si permetterà il passaggio delle bici, del cicloturismo, quindi i molteplici vantaggi ci sono tutti e quindi da questo punto di vista questa galleria si integra perfettamente in quella che è la nostra visione, ripeto, della Muggia Ventura. Alla conferenza stampa ha preso parte in veste di giornalista anche il vulcanico consigliere comunale Maurizio Fogar. L'incontro con la stampa si è comunque svolto seguendo le regole, nonostante un accenno di contestazione non da parte dell'esponente della lista Muggia.